Ciao a tutti ragazzi, finalmente la quarantena è finita da pochi giorni, ci sono delle novità sul mio campo. Ho deciso, certamente sempre parlando in famiglia, perché io tutte le cose che faccio ne parlo in famiglia, di fare lo chef o il pizza chef a domicilio, nel senso che anche per le persone più anziane, che hanno bisogno anche di un po' di compagnia dopo questa quarantena, anzi, io mi rivolgo più alle persone anziane. Se una sera vi va la pizza, arrivo io, vi faccio la spesa io e cucino per voi una pizza. Se avete voglia di fare un buon ragù con una pasta fatta in casa, ve la faccio direttamente io. E questo è un nuovo trampolino di lancio che voglio esternare a voi e che vi potrebbe essere utile. Se volete fare una bella cena a base di un buon primo e un po' di carne con dei contorni, contattatemi, contattatemi e vi spiegherò meglio i passaggi e come funziona. Come vi dicevo, vi andrò a fare la spesa e poi verrò direttamente a casa vostra a cucinare per voi, a fare la pizza per voi. Ciao!